Ci può stare tutto e il contrario di tutto. Io ritengo che ci sia il contrario di tutto. Che non ci sia niente e che bisogna tenerlo in piedi per ragioni che a me sfuggono. Lice Gelli, la mandante della strage della 2 agosto 1980, così la procura generale di Bologna, che a 40 anni di distanza dalla tragico evento, ha notificato adesso quattro avvisi di chiusura indagine. È passato un po' troppo tempo. Forse ci si poteva pensare prima, se avessero avuto realmente le prove. Si è conclusa così la nuova inchiesta sulla strage alla stazione di Bologna, partita da una corposa memoria difensiva presentata alla procura bolognese dai legali dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Tra i destinatari degli avvisi, oltre all'ex maestro venerabile della loggia P2, Paolo Bellini, ex avanguardia nazionale ritenuto esecutore, che avrebbe agito in concorso con lo stesso Gelli, Umberto Ortolani, Federico, Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori, oltre che in concorso con i NARA già condannati. Tutti e quattro appartenenti alla loggia massonica P2 sono deceduti. Quindi la difficoltà sta a poterglielo notificare. Forse la procura generale avrà delle strade per il diritto sconosciute che potranno raggiungere quelli passati a miglior vita. Licio Gelli, morto nel 2015, era già stato condannato per depistaggio nel 1995, sempre in merito all'inchiesta sulla bomba del 2 agosto dell'80, costata la vita a 85 persone. Ma proprio perché c'è stato un depistaggio vuol dire che non c'era stata una ipotesi di essere in mandante, perché se no ci avrebbero pensato prima.